Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Grande fratello, aggiornamenti su Beatrice Luzzi. Negli ultimi giorni il pubblico del reality di Canale 5 si sta chiedendo insistentemente quando tornerà una delle protagoniste di questa edizione. L'attrice è sempre al centro dell'attenzione, anche quando a spiccare è la sua assenza. La produzione aveva annunciato che Bea sarebbe uscita per motivi personali. In tanti temono che Beatrice possa non rientrare. E nella casa gli altri concorrenti ammormorano. Giuseppe Garibaldi è stato pizzicato mentre discuteva con gli altri e si chiedeva se davvero Beatrice potesse rientrare nella casa. Forse un po' spera che non torni. Comunque si è scoperto che Beatrice è uscita per stare vicino al papà che, all'età di 86 anni, ha subito un delicato intervento. L'operazione è riuscita e ora la pagina ufficiale dell'attrice ha reso noto un importante aggiornamento. La pagina ufficiale di Beatrice Luzzi ha fatto sapere che l'operazione del papà è andata bene e ora l'attrice si trova in quarantena. Buongiorno fan, questa mattina il papà di Beatrice, 86 anni, ha subito un delicato intervento. È andato tutto bene. Grazie per i numerosi messaggi di affetto che ci avete inviato. Beatrice, prosegue la nota, è, come da regolamento, in albergo in quarantena in attesa che il grande fratello le comunichi quando rientrare. Forza fan carichi più di prima portiamo Beatrice alla vittoria. Insomma, ormai è questione davvero di poco e ben presto il pubblico potrà riabbracciare colei che è probabilmente la più seria candidata alla vittoria finale. Chissà che Beatrice non riesca a tornare nella casa già da questo sabato. Domani, 23 dicembre, è prevista infatti una nuova puntata del grande fratello e potrebbe essere l'occasione giusta. In ogni caso Alfonso Signorini tratterà e approfondirà l'argomento. Nel frattempo nel loft di Cinecittà la tensione sale con Rosy Chin e Federico che hanno avuto un duro scontro.